Questa è la dimensione Sapreste fare questo? Che dimensioni ha K? Quel K che è lì, che dimensioni ha? Qualcuno? Quando qualcuno vi chiede dimensioni cosa vuol dire Quel K è e A è grande così Ecco le dimensioni Cosa vuol dire che dimensioni ha K? Coraggio qualcuno, che dimensioni ha K? È una lunghezza Coseno è una funzione trigonometrica Trascendente, no? Cioè è una funzione che non ha dimensioni Non ha dimensioni L'argomento del coseno Non ha dimensioni Quindi se X è una lunghezza K deve avere le dimensioni di una lunghezza meno 1 Sapreste disegnare questi due campi vettoriali? Qual è la direzione di questi vettori qua? E il versore che ve lo dice Questi puntano nella direzione X Questo vettore In ogni punto dello spazio Cioè deve essere chiaro Che a priori In un campo vettoriale Dipende Da X, Y, Z Potrebbe anche dipendere dal tempo O come dipenderà dal tempo Nei campi più interessanti Che faremo Pochissimo Qua che dipendenza c'è? C'è solo dalla X Non dipende dal tempo Quindi il campo vettoriale è costante al tempo E dipende solo da X Vedete che l'unica Le forme vi stanno parlando Quindi dovete sempre interpretare Sapreste disegnare questi campi? Sapreste calcolare la divergenza dell'autore? Disegniamo questo campo qua Se non lo sapete fare Vuol dire che lo state studiando Quindi in ogni punto dello spazio C'è una freccia Che aspetto ha questo campo qui? L'altro abbiamo detto che K Ha le dimensioni Di una lunghezza da meno 1 Quando X vale 0 Cioè tutti i punti della lavagna Che condividono lo stesso X Avranno la stessa freccia Ok? Quando X vale 0 Chi sono i punti con X uguale a 0? Sono questi qua, no? Tutti questi sulla... Questa è la retta X uguale a 0 Tutti questi hanno frecce 0 Quindi è una freccia nulla Quindi possiamo disegnare un certo numero di frecce nulle Tanto per... Poi c'è un altro X C'è un altro X Perché? Perché X uguale a 0 La freccia è 0? Perché quando l'argomento... Anzi sto dicendo uno sbaglio, no? Cioè è evidente che Per un attimo sto facendo confusione con il seno La funzione coseno non è 0 AX uguale a 0 Attenzione stavo sbagliando Stavo pensando alla funzione seno Quindi se io mi chiedo di fare il grafico Di A seno di Kx Questo sarebbe vero Invece per X uguale a 0 Abbiamo che coseno L'argomento del coseno vale 1 E qui vale 0 Quindi coseno di 0 vale 1 Quindi se A è una costante Supponiamo che A sia maggiore di 0 A avrà opportune dimensioni A seconda delle dimensioni fisiche Del campo V Quindi se A è una forza Sarà un campo di forza Se A è una velocità Sarà un campo di velocità Quindi le dimensioni Non vengono dal coseno Chiaramente l'argomento è Coseno è adimensionale Coseno stesso è adimensionale Le eventuali dimensioni fisiche Di questo campo Viene dalle dimensioni di A Quindi quando X è uguale a 0 Abbiamo l'argomento di 0 Coseno di 0 vale 1 Quindi se A è un numero positivo Per X uguale a 0 Disegneremo delle frecce In che direzione disegniamo queste frecce? Nella direzione V di X Quindi disegno delle frecce per esempio Così Ok? Tutti con lo stesso modulo Perché come vedete Condividendo le X Devono essere identiche le frecce Allora c'è un X C'è un altro valore di X In realtà ce ne sono Un'infinità di valore di X Dove avrei esattamente Le stesse frecce Dove si trovano? Ovviamente la funzione coseno È una funzione periodica, no? Giusto? Questo vuol dire che quando Kx è uguale a 2pi greco Avrò esattamente la stessa freccia Quindi altri valori possono essere Per esempio Il disegno è un po' lungo Perché il guai è di queste frecce Che vanno di qua E quindi si invadono Il disegno si conta Quella freccia è molto più semplice Anzi quasi inizio con quella Perché poi capirete Perché questo risultato è un po' brutto Da disegnare Questo è più facile da disegnare Ma disegnerò questo Preferisco iniziare con questo qua Quindi quando l'X è uguale a 0 Abbiamo le frecce che vanno Nella direzione Y Quindi in questo punto qui Facciamo questo punto qua In questo punto qua Avrò una freccia in questa direzione In un altro punto Qualsiasi avrò Sempre con l'X uguale a 0 Avrò una freccia pure così Quindi in un punto qua giù Avrò una freccia identica A un punto, questo punto qui Che è sufficientemente lontano C'è una distanza C'è un valore di X Per la quale io avrò Esattamente la stessa freccia Perché se questa distanza qui Se questa distanza qui La chiamo che so X asterisco È tale che KX asterisco È uguale a 2 pi Vedete che il coseno è periodico Quindi avrò esattamente La stessa freccia Analogamente Di qua Ha una distanza Ora Uso il quaderno Come Quanti quaderni sono questi Cerca 2 Il quaderno è di qua 1 Cerca 2 Avrò In questo punto qui Avrò una freccia identica Per lo stesso motivo Perché le frecce sono identiche Perché La distanza tra questi punti È proprio una distanza Tale che Quando moltiplico Per questo K Che deve esserci Perché deve esserci Una K Perché non posso scrivere Coseno di X Perché se questa X È una lunghezza Questa è una bestialità Quindi Nella misura in cui Io ho Il coseno E appare una lunghezza qua Sono obbligato a scrivere qualcosa Qui che abbia la dimensione Di una lunghezza meno 1 Quindi questa K È il parametro che appare qui Quindi questa distanza qui È la distanza tale Che moltiplicato Per questo K Mi dia più greco Quindi ho le stesse frecce Siamo d'accordo? Invece Se mi metto una distanza Di K Asterisco mezzi Che valore avrò? Voi dovete immaginare Forse è la cosa più semplice Disegnarla Tanto qua Che freccia ho? Ho la stessa freccia Qua ho la stessa freccia Qua ho la stessa freccia Cosa avrò qua? Essenzialmente Lo faccio molto più corto Di questo discorso Sto facendo la funzione Di coseno di teta Che aspetto a Che aspetto a Quindi dovete immaginare Che se questa distanza qua Se la faccio come Kx Questo diventa x Allora vedete Allora vedete che Per questa distanza Ho esattamente Lo stesso valore Per una distanza mezza Cioè per metà Di x asterisco Se questa distanza qua È x asterisco Questa x asterisco Mezzi È un valore Esattamente a metà Quindi in questo punto qui Che cerca a metà strada Ho la freccia Che è così E controllate che Non lo stia sbagliando Quindi in questo momento qui Potevo disegnare un po' meglio Tutte queste frecce Per il momento Hanno lo stesso modulo Controlliamo rapidamente Che ci sembra E' fatto decentemente Per essere un po' troppo grande Per essere un po' troppo grande Per essere chiaro il messaggio Spero che lo sia Forse si riesce a visualizzare meglio quello che sto facendo Se uso questo disegno qua Ci saranno dei punti Shhh Se questo è x asterisco Cos'è x asterisco? È la distanza Che mi serve Per avere che Per avere che K per questa distanza Verso 2π Quindi questo è x asterisco Quarti x asterisco mezzi Tre quarti x asterisco Quindi adesso disegno i punti Che sono a x asterisco Quarti E tre quarti Che vale Al argono zero Quindi ho il vettore nullo Dove? Ho il vettore nullo Qui 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 Qua sono i punti dove il vettore E' zero E poi con il gesso verde se lo trovo Essenzialmente collegherò i punti con un andamento cosenoidale Tipo coseno Così riuscite Questo è bianco Non è gran che come disegno A voi che avete i foglietti Minuto Per esempio, in questo punto qua che freccia ho? In questo punto che freccia ho? Quindi la linea verde sta toccando le punte delle frecce. In questo punto che freccia ho? C'è qualcuno che non capisce? Come dico i cinesi, una parola veramente vale dire Un disegno vale veramente mille parole Cioè, forse mi sono espresso male nel parlare Ma il disegno credo che parli da solo Questo è un tentativo di disegnare alcune frecce In quali punti? In questi punti qua Di questo campo vetroiale Vedete che dipende solo da x Tutti i punti che condividono lo stesso x avranno la stessa freccia Questi punti condividono la freccia nulla Questo punto qui avrà una certa freccia Quale? Bello disegno fino a toccare la furba verde Che è essenzialmente la funzione coseno kx Questo punto, questi tre punti condividono lo stesso x Hanno la stessa freccia Ok? Vedete che la direzione del campo vetroiale È data dal versore Dovete guardare qui per sapere qual è la direzione Capite qual è la difficoltà di disegnare questo? Non c'è nessuna difficoltà Ma artisticamente è molto più impegnativo Solo perchè le frecce si sovrappongono un po' Quindi dovete immaginare tutte queste frecce Che sono girate nella direzione x D'accordo? x asterisco, questa distanza che valeva due quaderni Questo punto qui, tutti questi punti qua Che condividono questo valore di x Hanno esattamente lo stesso valore di freccia Perchè x asterisco è la distanza tale che E kx asterisco vale due pi greco Ok? E due pi greco è la distanza Anzi, comincio già a... Per il momento questo è un andamento così Vagamente a forma coseno Tutte le frecce sono rivolte nella direzione y Qua nella direzione x, siamo d'accordo? Quindi la connessione sia due disegni È solo far rotare due frecce Prossimamente, potrei già fare qualcosa Martedì la prossima settimana Introdurò il concetto di onda E vedete che qua abbiamo già Non è ancora un'onda questa È semplicemente una funzione che ha un andamento Nello spazio di tipo coseno Coseno kx In quel contesto quando parleremo di onda Questa forma si muoverà Si muoverà Quindi avremo una dipendenza dal tempo Qua non c'è una dipendenza dal tempo È una specie di forma cosenoidale Fissa nello spazio Non si sta muovendo Non è ancora un'onda Quando parleremo di onda Questa x asterisco Qual è il significato di x asterisco? È una distanza dove le frecce sono identiche Tutti che vistono tra di loro x asterisco Avranno la stessa freccia Questo punto qua ha una certa freccia Beh, se prendete un punto che è a x Ho scelto anche un simbolo difficile da pronunciare Se prendo questo punto Se prendo un altro punto x Che vista da questo x asterisco Troverò la stessa freccia Eccola qua Ok? Questi due punti Beh quasi Questo l'avevo disegnato un po' liberamente Se prendo un punto Che dista x asterisco da questo In quella direzione Sarà questo Avrà esattamente la stessa freccia Quindi presi due x Che distano x asterisco Hanno la stessa freccia Nel contesto delle onde Questa distanza speciale Tale che k a distanza speciale uguale a 20 greco Viene indicato con il simbolo lambda Che si chiama lunghezza d'onda Però questo non è ancora un'onda Per quello ve lo sto solo anticipando Non è ancora un'onda Cos'è un'onda? Un'onda avrà una differenza dal tempo Quindi è un modo per anticipare Forse per farvi pensare a cose un po' più familiari Cos'è una lunghezza d'onda? E' la distanza in x Di cui dovete spostarvi Per trovare una freccia identica D'accordo? Va bene? Quindi questo disegno ve lo risparmio Lascio a voi farlo È identico Solo con le frecce che sono rivolte nella direzione x Qual è la divergenza di questo? Qual è il rotore di questo? Quindi queste frecce sono rivolte così Ok? Per esempio un punto esattamente a metà strada Questo punto qui Ha una freccia che è rivolta in questa direzione Vedete che il disegno Comincia ad essere brutto da vedersi Qual è la divergenza di questo campo? Qual è il rotore? Divergenza Cos'è la divergenza? Sapete che la divergenza è una misura È un'operazione matematica Che permette di capire qual è il flusso Di questo campo elettoriale Attraverso una piccola scatoletta Un piccolo volumetto Come sono le frecce? Escono fuori come un porcopino Entrano dentro come un animale colpito da frecce Oppure le frecce che entrano escono Quindi non c'è in realtà un netto di frecce che escono entro Divergenza 0 Ma cos'è? In coordinate cartesiane Voi sapete che la divergenza è La derivata parziale rispetto a x Della componente x Più la derivata parziale rispetto a y Della componente y Più la derivata rispetto a z Della componente z Guardate queste due funzioni E vedete chi è la componente y e z di questa? Non ce l'ha, ha solo una componente x Ok? Quindi la divergenza in questi due esercizi Nessuno delle due ha componenti z Questa ha una componente solo x Non ce l'ha, componente y Questa ha una componente y Non ha una componente x E nessuno delle due ha una componente z Quindi la divergenza di questa qua Quindi chiamiamo questo la 1 Qua o cosa? Qual è la divergenza? Qual è la derivata parziale di questo Ispetto a x? Il coseno, la derivata di coseno Dovete usare il teorema La derivazione del coseno Quindi la derivata del coseno Rispetto all'angolo è uguale a meno seno Quindi questo sarà meno ak seno di kx Questa è la divergenza del primo Perché abbiamo che la derivata di vx Rispetto a x è uguale a questa cosa qua Invece questo non c'è Questo non c'è Qual è la divergenza? La divergenza vale Vedete che la divergenza è una funzione di x Cambia da x a x Cercate di capire cosa sta succedendo Qual è il rotore? Cos'è il rotore? E' questo oggetto qui, no? Questo è il rotore Chiaramente in questa funzione qua Questo campo pezionale qua Che non ha componente x E che non ha componente y e z Qua ho 0 E qua ho 0 E qui ho quella funzione lì Quindi Qual è la componente? Proviamo a immaginare Se io faccio la componente x Qual è la componente x del rotore? Ovviamente 0 Qual è la componente y? Perché è 0? Perché questa cosa qua Che è quella funzione lì Questa roba qua non dipende da z Quindi è 0 anche questo E la componente z? Ovviamente è 0 pure questo Perché questo non dipende da y Quindi questo è il vettore Identicamente nullo Il rotore è il vettore nullo Questo Fatelo prima che lo faccia io Coraggio Divergenza e rotore Veloce Questo ha solo la componente Vedete che io ho la componente y qua Quindi io devo guardare Non ha la componente x Quindi io non ho Quando faccio questo Scrivete l'esteso Così evito di correre Cosa che vorrei tanto fare Però Questa non ha una componente x Questa che vedete qua E' la componente y Quindi questo non c'è Questo non c'è C'è solo questo Però La componente y Dipende da y? Quindi In questo caso Questo vale 0 Perché? Perché questo Quindi queste frecce Non divergono Non c'è divergenza Queste qua Si invece Bisogna forse disegnarne alcune Per cominciare a Solo che è un disegno molto brutto da farsi Provo a farlo con frecce un po' più piccole perché così grandi forse, vabbè potete immaginare che questo punto qui lo faccio con frecce più piccole, non c'è alternativa, sennò non capite, io stesso non capisco se le frecce si toccano e poi è difficile disegnare. Proviamo. Quindi disegno delle frecce un po' più piccole. Immaginate che questo sia x asterisco, quindi se questa è la lunghezza d'onda, qua ho frecce identiche. A metà strada qua ho delle frecce invertite, stesso modo, silenzio per cortesia. Questo è uno degli ultimi sh che faccio, ho già fatto con il terzo sh. Qualcosa ho? Vettori nulli. Eh? Qua cosa avrei? Ho una freccia che, guardate, questo corrisponde a questo, questo punto qua avrò una freccia che è, mannaggia, di nuovo ho disegnato un po' troppo piccina, troppo frecce. Questa freccia qua è un po' più corta, questa è un po' più corta, Questa è zero. Questa qui è di qua, ma è più corta di questa, riuscite a capirlo? Cercate di farlo voi sul vostro quaderno, fare una lavagna, è estremamente difficile in questo campo. Vedete? Questo è il valore pieno da destra, qui va a destra ma ha un valore più piccolo, perché è un coseno che da uno sta scendendo. Qua è zero il coseno, qua ho un valore negativo, ma non è il valore meno uno, il meno uno lo trovate qua, lo vedete? Provate a farlo voi il disegno. Ma vedete qua che le frecce, e qui cosa succede? Qua avete nullo, qua sta, cosa succede qua? Un punto che è qua, come lo disegnerete? Questo punto qui, è una freccia che è così, qua è una freccia che è così, qua è una freccia che è così, perché il coseno è negativo, qua è zero, qua il coseno è positivo, la freccia è curta. Vedi, perché è più facile disegnare in questa zona qua? Perché le frecce vanno a dire opposte, no? Perché è brutto qua? Perché le frecce stanno convergendo, qua c'è una divergenza, se potrei dire negativa, convergo, qua c'è una divergenza positiva, quindi qua il disegno è più facile da fare, qua è brutto perché si sovrappongono, capite che questa qui invece, la divergenza è nulla, qua la divergenza non è affatto nulla, e avete zone dove la divergenza, vedete che avete un seno, un seno è una funzione che oscilla tra 1 e meno 1, quindi ci sono valori di x dove il seno è positivo e zone di x dove il seno è negativo, ovviamente c'è il segno meno qua, quindi quando il seno è positivo, per quell'x in realtà la divergenza è negativa, perché c'è questo segno meno, quando la x è tale che il segno è negativo, in realtà la divergenza è positiva perché avete questo segno che cambia di segno, ma quello che sto dicendo è che ci sono alcuni valori di x dove la divergenza è positiva e dove saranno, questa è la zona dove la divergenza è positiva, perché le frecce stanno uscendo, questa è la zona dove la divergenza è negativa, perché le frecce stanno entrando, cioè questo è come un porcospino e questo è come un cadavere riempito di frecce, quindi qua avete, questo è il cowboy con le frecce conficcate dal corpo, questo invece avete le frecce che stanno uscendo, come dal porcospino, non so se riuscite a capire, quindi cadavere, porcospino, cadavere, porcospino, cambia, quante frecce ha il cadavere dipende da x, quante si chiamano le frecce, qua invece non avete mai frecce che entrano in un volume, perché qualsiasi volume che voi disegnate, quelle frecce che entrano da un lato sbucano dall'altro, non c'è una tendenza ad accumulare punte di frecce o frecce a uscire, perché tutte le frecce che entrano escono anche, qua invece vedete che se io disegno un volume o frecce, il netto che entrano qua si disegno un volume o frecce che escono, quindi qua una divergenza positiva, qua una divergenza negativa, qua la divergenza è nulla, infatti me lo dice il calcolo esplicito della divergenza, infatti dottore, vai fatelo prima che io arrivi là, vado molto lentamente, prima che io cominci a scrivere, fatelo voi, impostatelo, cos'è? Il determinante formale, vai, scrivere prima che io riesco io, fanno, qua qua scriverete le componenti x, y, z di questa funzione qua ha una componente x? No, 0, per z no, ha solo la componente y? Quindi vi chiedete, questa roba ha una componente x? come si fa? Questo dipende da z? No, quindi questo vale cos'è? Uy ha una componente y? Cioè il rotore ha una componente in quella direzione? No, ha una componente in quella direzione nella direzione x, y? Direi di no, no? Quindi, guardate il disegno, prima il rotore del mandovale, chiedetemi, questo ha un rotore nella direzione perpendicolare alla lavagna? Cos'è il rotore? In ultima analisi ho una misura cos'è una circuitazione, un integrale curvilineo lungo una curva chiusa, no? Quindi cos'è il rotore nella direzione perpendicolare alla lavagna? Cosa fate? Cosa fate nella vostra testa? Cos'è il rotore in questo punto? La circondate con una curva chiusa, per esempio una curva è fatta come un retagolo, fate il calcolo della circuitazione, vi interessa la direzione perpendicolare alla lavagna? Quindi fate la circuitazione in questo verso, calcolatelo, calcolate la circuitazione, dividete per l'area e quello che avrete è la parte del rotore perpendicolare alla lavagna, adesso di nuovo, lei che ha scosso la testa facendo così, si chieda questo campo eutriale ha un rotore? Guarda sta curva qua, che va da A B C A D Anzi, chiamiamo questo B perché voglio girare in direzione Z quindi devo girare in questo verso, C D, io voglio girare lungo questa freccia, lungo questa curva viola, così, fai la circuitazione, è positivo o negativo? Cosa si fa con la circuitazione? È un integrale curvilineo, quindi voi dovete fare la la circuitazione lungo la curva viola, è l'integrale da A a B più l'integrale da B a C, più l'integrale da C a D, più l'integrale da D ad A Da A a B, quanto vale l'integrale curvilineo? È un valore 0, positivo o negativo? Le frecce del campo sono quelle bianche, la curva viola dovete fare, dovete fare, bianco prodotto scalare tra la freccia bianca e lo spostamento lungo la curva viola, andando da A a B, voi vi spostate da A a B lungo la curva viola e fate il protoscalare con il campo bianco che dove, lungo la curva A a B, le frecce bianche stanno andando in quale direzione? Stanno andando così, non vi pare? Nella stessa direzione di questo quindi lungo la curva A a B, da A a B, l'integrale curvilineo è positivo! Siamo d'accordo? Quindi qua avete qualcosa di positivo questo è positivo, poi andate da B a C, da B a C, lo spostamento viola è nella direzione X invece le frecce sono sempre nella direzione Y quindi da B a C, l'integrale curvilineo è un bel ciccione 0 ok? Questo qua non c'è, da C a D, quindi questo non c'è, da C a D adesso il vostro spostamento viola è verso l'alto nella direzione Y ma anche il campo è nella direzione Y, addirittura per dove ho scelto di fare la C a D quindi in questi punti la freccia bianca è sempre verso l'alto quindi avrò per questa curva che lungo la C a D ho un integrale positivo quindi questo è positivo, questo è positivo, questo è positivo, questo è 0 da D ad A cos'è? È 0! Quindi l'integrale curvilineo andando da A a B a C a D lungo quella curva è un numero che non è 0, è positivo quindi non vi dovesse stupire che questo campo ha un rotore questo è un campo che non ha un rotore come vedremo tra un attimo anzi l'abbiamo appena calcolato, questo qui è irrotazionale ha un rotore che è 0, questo campo che non ha divergenza però ha un rotore potete vedere perché le frecce lungo questa curva viola danno un integrale curvilineo che è diverso da 0 questo perché da un integrale curvilineo 0? Perché questo ha un rotore nullo? fate una curva, non so, dalla... fate un discorso analogo questo è A, questo è un punto B, questo è un punto C e questo è un punto D andate da A a B, B a C, C a D, D ad A, andate così e chiedetevi l'integrale curvilineo come è messo? Vedrete che qua è 0 sempre, qualsiasi curva chiusa che voi disegnate qua avrete sempre che l'integrale curvilineo è 0 invece qui l'integrale curvilineo lungo la curva chiusa non è 0 può essere negativa, positiva, qua è sempre 0 convincentemi, il disegno è proprio difficile per farlo per voi, fatelo voi quindi quanto è il rotore? proprio usando la matematica il rotore è che io devo fare adesso la componente z e devo fare così, guardate, devo fare la derivata rispetto a x della componente y e la componente x non dipende da x e quanto è? quindi è meno AK seno di Kx quindi vedete che il rotore, pure il rotore, è solo nella direzione perpendicolare alla lavagna prima cosa da notare, seconda cosa, il rotore può uscire dalla lavagna o entrare nella lavagna a seconda di x, perché per certi valori di x il seno è positivo e quindi il rotore è entrante perché c'è questo segno meno, quindi ci sono alcuni valori di x dove il rotore, che è un vettore, entra nella lavagna invece ci sono valori di x per la quale il seno di Kx è negativo quindi si compensa questo negativo e quindi avete un rotore che esce dalla lavagna a seconda del valore di x il rotore va da positivo a negativo e ci sono anche dei punti dove il rotore è 0, ma sono punti il rotore è una funzione di x, ci sono dei punti dove vale 0, ma per un punto scelto a caso non sarà 0 meditate su questo semplice esercizio, cercate di visualizzare il campo e capire cos'è una divergenza, cos'è un rotore, questa tendenza delle frecce a circolare quindi un rotore è una zona dove in un punto se il rotore è diverso da 0 vuol dire che se circondate quel punto con una curva chiusa, in un piano si intende ci sarà una tendenza del campo esterale ad avere una circolazione, una circuitazione diverso da 0 quindi il campo ruota cos'è la divergenza in un punto? circondate il punto con una sfera se la divergenza è maggiore di 0, allora dovete immaginare che le frecce stanno uscendo da quella sfera se la divergenza è negativa vuol dire che le frecce stanno entrando in quella sfera se la divergenza è nulla vuol dire che ci sono frecce che entrano e un ugual numero che esce grazie 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 grazie